Se non sapete come fermare l'acqua, oggi avete una risposta. Fulcron impermeabilizzante, la barriera che non fa passare l'acqua. Con Fulcron impermeabilizzante potete impermeabilizzare tutti i materiali porosi. Grazie alle nanotecnologie, lascia traspirare le fibre, respinge l'acqua e dura a lungo. Fulcron è a base d'acqua, non ha odore ed è invisibile. Su questo non ci piove. Fulcron, la difesa naturale contro l'acqua. Fulcron impermeabilizzante è un prodotto Alexxons.